questo è il risultato dei panini all'olio sembrano carucci dai e poi abbiamo fatto anche i biscotti al burro che sono qua per la merenda della mia figlia figliolina adorata no non venire qui e abbiamo fatto un po di biscottini fatti in casa anche i pancake e anche le fratelline di mele le rigeline di mele buona merenda